Resta l'opposizione e la Lega al Comune, ma è pronta ad aiutare la città in situazioni di emergenza. Ha votato sì al Salva Messina, ma da De Luca si resta distinti e distanti. A mala lingua nella puntata dedicata ai migranti si è parlato anche del sindaco di Messina e delle sue ultime mosse, compreso il decreto che ha provocato la mobilitazione dei sindacati e lo sciopero annunciato da Will e CGL. A parlare di De Luca un suo nemico storico, il sindaco di Furci Matteo Francilia, che adesso è anche segretario della Lega, lo stesso partito a cui ha aderito Dino Bramanti. Francamente ha detto Francilia non è che pensi a De Luca da una mattina alla sera, ma va detto che a Santa Teresa e a Fiume di Nisi ha amministrato bene. A Furci non ci è arrivato perché ha abbattuto il suo candidato e sull'operato di De Luca ha spiegato saranno i messinesi a giudicare, certo è che siede su quella poltrona di sindaco perché i partiti e un'intera classe dirigente hanno fallito. Da questo punto di vista assomiglia alla Lega che rispetto ai partiti nel giudizio della gente assume lo stesso ruolo. E poi un annuncio, accompagneremo De Luca martedì dal sottosegretario agli enti locali Stefano Candiani, a salutare quello che definisce un ritorno alla politica e a lodare l'operato di De Luca in puntata è stato il professore universitario Pierangelo Grimaudo, rappresentante della Fondazione Nuova Politica. De Luca, secondo Grimaudo, ha rimesso al centro dell'agenda politica le questioni più importanti della città.